Questa mattina presso l'Hotel Palace di Battipaglia si è svolta un'importante conferenza stampa per l'occasione. Vincenzo Inverso, candidato al Consiglio per Italia Viva, assieme ai membri del direttivo Carmine Caso, Michela Manfredoni e Arturo Denza e con la partecipazione del candidato a sindaco per la coalizione di centro-sinistra Antonio Visconti, hanno parlato dell'istituzione della concessione del marchio DECO. Presenti anche le associazioni di categoria e gli imprenditori del settore agroalimentare. Il marchio DECO è una legge nazionale che poi viene ripresa a livello regionale pochi mesi fa, arricchendola con un regolamento da parte della regione e dell'attuale maggioranza governata dal presidente De Luca e che dà ai comuni la facoltà di istituire un marchio di qualità, quindi il DECO denominazione di origine comunale, per quei prodotti del territorio dell'enogastronomia che rappresentano un'eccellenza storica, ma soprattutto che rappresentano il territorio in termini di valore e di valori. E quindi noi costituiamo e diamo la possibilità a tante aziende, a partire da quelle lattiero casearia, quindi la mozzarella di bufala di battipaglia, passando per la terza e la quarta gamba, arrivando fino al pomodoro, la possibilità di poter raggiungere al loro marchio di produzione, un marchio di origine, un marchio di qualità certificata dall'istituzione comune di battipaglia. Il procedimento previsto per legge e poi da regolamento regionale prevede l'istituzione attraverso una delibera di consiglio comunale, quindi la può fare il comune, che tiene dentro il regolamento la registrazione di questo marchio, che viene fatto su base collettiva all'ufficio italiano per quanto riguarda il registro dei marchi e brevetti e dà la possibilità al sindaco, supportato da una commissione di esperti, di poter valutare tutte le aziende che hanno queste caratteristiche a cui concedere gratuitamente questo marchio. Naturalmente andiamo a colmare un vuoto che questa amministrazione avrebbe potuto già da prima fare, anzi il mio appello, visto che come diceva Nietzsche, le idee migliori non sono di nessuno ma sono di tutti, è quello di farlo, invito questa amministrazione a farlo, altrimenti al primo consiglio comunale dell'amministrazione Visconti Sindaco noi voteremo, faremo la delibera di istituzione del DECO e daremo questo marchio di qualità a tutte le aziende che producono l'agroalimentare di eccellenza del territorio di Battipaglia. Come al solito registriamo una debolezza della proposta rispetto a una tematica che è centrale per lo sviluppo di questo territorio. Battipaglia è notoriamente terra di grandi eccellenze agroalimentari partendo dalla mozzarella di bufala che è un brand riconosciuto a livello nazionale e anche oltre che ha proprio nella denominazione e nell'abbinamento col nome della nostra città un ulteriore rafforzamento in termini di immagine anche commerciale. La mozzarella di Battipaglia è percepita dai consumatori come un prodotto più gradevole, di miglior sapore e più sano e sicuramente che si differenzia rispetto agli altri territori nei quali c'è il consorzio di tutela della mozzarella di bufala e questo è un elemento che va rafforzato. Ma ancora la rucola che in questi anni si è affermata sui mercati europei e anche oltre proprio come forte identità battipagliese e poi l'antica tradizione di tutta la quarta gamma ma anche dell'ortofrutta, del pomodoro, del datterino. Abbiamo i colori della bandiera, il bianco della mozzarella, il verde della rucola e il rosso del pomodoro. Dobbiamo fare di queste nostre eccellenze la bandiera della rinascita battipagliese. Battipaglia è stanca di affastellarsi su questioni di cui ormai i cittadini non ne possono più. il cemento, i palazzi, le lottizzazioni, le monetizzazioni. Abbiamo mille opportunità per dare un futuro di lavoro ai nostri giovani, per fermare l'emorragia che è in atto ormai da tempo e per garantire possibilità di occupazione e di rilancio economico e sociale a tutta un'area che va anche al di là della nostra città.